gentili telespettatori buona giornata quale sarà il primo atto atto di forza del governo meloni atto di forza era un richiamo cinematografico no va bene fabio rampelli anticipa sarà un decreto contro contro chi le bollette cosa avete capito ma contro chi contro le bollette no e così sarà contro il caro bollette parola parola di fabio rampelli intervistato da dal giorno resto del carlino nazione ma sto carlino gli avranno dato sto resto o no ma perché resto del carlino al casto carlino gli avranno dato sti soldi o no vabbè sono tante le emergenze nazionali ma certamente il primo intervento da attuare è alleggerire la pressione sui conti delle famiglie il problema qual è è che quando vuoi tagliare le bollette non hai soldi sono due cose che vanno in senso opposto voglio tagliare le bollette ma non ci sono i soldi e allora come si fa qualcosa salta fuori dall'aumento degli con gli aumenti dei prezzi con l'inflazione qualche soldino ogni mese salta fuori che non è poca roba e si parla di diversi miliardi ogni mese in più nelle casse dello stato ma non sono sufficienti a tagliare delle bollette così spaventose ovviamente da novembre che il gas doveva salire dell'80 per cento per l'esattezza 79 per cento probabilmente avrà una forte discesa speriamo sia l'inizio di una discesa e discesa del gas che si porterebbe dietro anche l'elettricità speriamo perché realmente il governo italiano qualunque colore qualunque nome ci sia a governare non ha i soldi la risposta è sempre quella non ci sono i soldi facciamo questo non ci sono i soldi è come una famiglia c'è andiamo al mare non ci sono i soldi andiamo no andiamo in pizzeria non ci sono i soldi andiamo a comprare le scarpe non ci sono i soldi ma sempre rispondi sempre non ci sono i soldi eh cosa vuoi che ti dico se quella è la risposta l'avvicinarsi dell'inverno rende tutto più urgente perché il gas potrebbe veramente arrivare a una discesa forte potrebbe ma potrebbe tornare a salire che non lo sappiamo esattamente non c'è la certezza e così bisogna cominciare a pensare a un primo provvedimento da firmare da parte del nuovo governo da dare subito risposte agli italiani riguardo alle prossime emergenze indipendentemente da quello che succederà a Bruxelles sul tetto del gas per tre mesi una specie di accordo non si capisce bene nell'incontro finto pacificatore tra Meloni e Berlusconi perché la Meloni con tutta la pazienza che può avere con Berlusconi Berlusconi rimane Berlusconi Berlusconi fa il Berlusconi Berlusconi è in politica da trent'anni per gli affari suoi beh questo l'abbiamo l'abbiamo capito e anche oggi che ha 86 anni continua sulla stessa sullo stesso filone pensavate che era cambiato e figuratevi dai così nel finto incontro tra Meloni e Berlusconi più che il finto incontro nell'incontro finto pacificatore è stato molto importante dicono e su questo costruiremo la fase della nuova legislatura ci auguriamo che i falchi la smettano di volteggiare e si possa ricomporre un clima di armonia e collaborazione ma quale falchi? è Berlusconi che fa così? allora naturalmente quando uno è colpevole ed è ricco e potente la colpa è sempre degli altri sono i falchi sono quelli che gufano come? tu vuoi la giustizia, mettere la ronzolli, la delega sulle televisioni e sono gli altri che gufano? voi che siete persone intelligenti capirete che non c'entra niente dei fantomatici gufi che sono contro un clima di armonia e collaborazione la realtà è quella che abbiamo visto fino adesso altro che gufi i gufi, no? ma quale gufi? poi il pensiero va alla produzione industriale la necessità di rimettere in moto l'economia italiana abbiamo urgente bisogno di riprendere la produzione in tutti i settori a cominciare da quello energetico dice Fabio Rampelli dobbiamo aumentare il PIL e aumentare il PIL non è così il PIL è la produzione di ricchezza nazionale aumentare il PIL non è così come dirlo il PIL aumenta da solo tu puoi facilitare mettere delle condizioni che possano far aumentare il PIL dobbiamo aumentare il PIL è una frase sbagliata nessun governo può aumentare il PIL il PIL è la produzione nazionale di tutta l'Italia di ricchezza un governo non può non aumenta il PIL può fare delle cose che tendano a favorire l'aumento del PIL come investimento sulle grandi opere fare da traino per l'economia reale sostenere la crescita delle aziende creare nuova occupazione queste sono azioni che possono favorire possono favorire l'aumento del PIL in poche parole produrre ricchezza per poterla redistribuire e diminuire la dipendenza dall'estero su materie prime e manifatture bene vedremo vedremo realmente che cosa si potrà fare con questo governo però realmente e vi ho sempre detto i governi oggi possono fare quasi nulla c'è l'Europa la moneta la stampa l'Europa l'Italia non può fare politica monetaria non può aumentare il circolante non lo può diminuire non può bloccare il cambio non può può fare niente quindi i soldi o ce li hai o non ce li hai e se non ce li hai o fai prestito o non fai niente l'Italia non può fare ulteriore prestito perché ha già troppi debiti non può abbassare le tasse perché le tasse servono per pagare il debito non ha soldi nel cassetto no allora vi faccio questo esempio una famiglia che cosa può fare se non ha soldi ha un alto debito che cosa può fare l'unica cosa è trovare un lavoro dove ti pagano di più e questo con l'Italia come si rapporta l'Italia che cosa può fare per abbassare il debito l'unica cosa che può fare è cercare di favorire l'aumento del PIL aumenta il PIL e il debito in proporzione diminuisce quindi non diminuire il debito ma diminuire la percentuale del debito sul PIL come in una famiglia se voi avete uno stipendio di 1000 debiti per 500 trovate un lavoro che vi pagano 2000 a quel punto il debito rimane 500 ma è su 2000 non più su 1000 quindi dal 50% diventa il 25% delle vostre entrate arrivederci a tutti e grazie